Tra i tanti riconoscimenti ottenuti dal VAT e da Gabriele D'Annunzio nel corso della sua esistenza, anche una cittadinanza onoraria a tocco da Casauria. Assolutamente sì, insomma, una cittadinanza che è un'onorificenza che lui ha così gradito, alla quale risponde con una lettera straordinariamente bella, perché è molto intensa, molto emotivamente, molto sentita. E si sente cittadino veramente in tutti i sensi di quella località, che è una località di particolare bellezza, ma di particolare importanza letteraria. Perché non dobbiamo dimenticare che da questo incontro, che loro fanno, questo è un soggiorno di tre giorni circa, che loro fanno, siamo nel 94, siamo a maggio del 94, ed è un soggiorno di tre giorni a tocco Casauria, insieme anche a Dolfo de Bosis, quindi diciamo che sono tutti lì a guardare e a vivere l'esperienza di questa cittadina. Ci racconta Michetti che D'Annunzio si raccoglieva fiori sulla montagna di Tocco, intorno a Tocco, e soprattutto funghi che mangiava e gustava. Ecco, abbiamo saputo un'altra cosa, perché poi a questo servono gli approfondimenti e le ricerche, a conoscere aspetti a volte anche inediti e sconosciuti. Quindi che mangiava molto volentieri questi funghi della montagna. Ecco, questo però è un soggiorno particolare, perché da questo soggiorno nasce la fila di Iorio. Questo è il famoso momento in cui D'Annunzio e Michetti vedono insieme questa famosa, straordinaria e bella ragazza, e non a caso siamo qui, ecco quella che diventerà Mila di Codra, e sarà lei la protagonista della fila di Iorio nella tela che è qui alle nostre spalle, ma anche del grande testo e del grande dramma pastorale. Quindi è un incontro questo, particolarmente importante per il nostro territorio, ma per la letteratura italiana tutta. Quindi non poteva passare inosservato questo momento e questa onoreficenza. E' un'efficienza insomma.